Una scatola sul banco, Edo. Salami in vista? Eh, purtroppo no. No, dai. Io speravo nei salami. Eh, questa volta. Vabbè, dai, adesso mi fai vedere cosa c'è dentro. Ok. Buongiorno, Edo. Buongiorno. Eh, però che delusione. Io l'altra volta dentro lì ci avevo trovato dentro delle salamelle, dei cacciatorini. Eh, questa volta era una scatola che c'era già sullo scapale. No, va bene, dai. Va bene, dai. No, va bene, dai. Purtroppo l'app è finito e quindi niente salamelle, niente cacciatorini, niente salami. Cosa abbiamo dentro qua? Allora, Bruno, vorrei cercare di fare un video abbastanza semplice. Sì? Sui rapporti della Vespa, rialacciandomi a qualche commento che abbiamo avuto in questi giorni. Sì. Perché, vabbè, va bene, guarda, allora, facciamo così. Fammi vedere. Tiriamoci fuori. Sì, è veramente, non ci sono i cacciatorini, fammi vedere, non ci sono. Non ci sono. No, no, niente, niente, guarda. Vabbè, ragazzi, il video è finito qua, ok, stop. Ci prendiamo un qualcosa e poi magari la scatola la facciamo sparire. Ma quant'è lì dentro? Eh, ce n'è un po', eh, ce n'è un po', sì. Niente, dai. Deve essere anche mica tanto leggera. Sì, in effetti, mettiamola qua. Ok. Allora. Quindi, rapporti Vespa. Aiuto. La prima volta che appare un block notice è una penna e soprattutto una calcolatrice. Perché? Allora. Noi partiamo dal... No, siamo persone semplici, no? Non siamo ingegneri, non siamo... Esatto. Ci affacciamo a questo mondo e vogliamo divertirci ad elaborare un motore dalla Vespa. Abbiamo dei riferimenti. Quali sono i riferimenti? I riferimenti sono i rapporti, magari, semplicemente dalle Vespa originali, no? Sì. Che sono tutti rapporti a dentatura elicoidale. Poi apriremo una parentesi sul discorso elicoidale, denti dritti. Però adesso restiamo su il rapporto in sé. Allora, già c'è differenza tra cambio 3 marce e 4 marce, perché se noi abbiamo sì, ipoteticamente, la terza marcia lunga uguale alla quarta della 3 marce e della 4 marce, cosa succede? Che il cambio 4 marce è per forza spaziato meglio. Certo. Quindi il salto che c'è tra la seconda e la terza marcia di una Vespa a 3 marce è importante, no? Mentre nel 4 marce viene distribuito meglio. Nel 4 marce è distribuito meglio. I cinquantini da corsa dagli anni 60 avevano 10 marce, 11 marce, ma perché? Ma perché comunque il cambio, il rapporto del cambio aiutava molto il rapporto lungo della primaria a far restare il motore in coppia. Se tu con un motore piccolo che gira fortissimo perdi coppia, hai finito. Ti fermi. Allora, tornando a noi, che riferimenti abbiamo? Adesso così a memoria, senza andare nei rapporti troppo corti, però abbiamo, per dirti, pignone, campana e risultato. Se noi abbiamo una 1867. 1867 è una campana di una Vespa a 3 marce, no? Con questo rapporto. Quella appena prima potrebbe essere la 1668, che è la campana del 4 marce. Ok? Sì. Poi adesso mi viene da dire, non so, la 2263, no? La 2263 è la campana della Vespa a 90 originale. Ok. Quindi 54 marce, 53 marce. Ok? Vespa a 90. Sono già rapporti, diciamo, ben scalati. Prima della 1668 ce ne sono altri molto più corti. Ape, Vespe moderne, PK, la PK Rush, la XL, eccetera, eccetera. Con 15 denti, 14 denti, pignone, forse sempre sul 68. Sempre parlando di elicoidale, dunque, se non erro, la campana del 125 è 24, 2461. Ok, 125. Queste sono tutte elicoidali. Con i denti, elicoidali, dente elicoidali, dente elicoidale, dente elicoidale. Poi ce n'è una per allungare l'apporto con un pignone da 25, adesso se non erro, il 25, 50, no? Si, guarda qua che c'è scritto. Poi è una vecchia scatola di un ricambio Olimpia, denti elicoidali. E poi i denti dritti che facevano una volta, senza avere granché scelta. Una volta avevamo quelle a disposizione e bisognava lavorare con quelle. Allora, il discorso dell'elicoidale, il denti dritti, ovviamente, appare il rapporto finale, e dopo li vediamo, il rapporto elicoidale intanto assorbe molta potenza. Ma perché? Allora, vediamo un po' questa qua che cos'è. Assorbe più potenza rispetto ai denti dritti, quindi... Assorbe più potenza rispetto al denti dritti. Questa è una campana del 90 elicoidale, quindi è una 22,63. Tu devi pensare che qui abbiamo l'albero motore. Si. Questa è la campana, qua all'interno c'è la frizione, l'albero del cluster. Ok? Si. E qua c'è il cambio con l'asse ruota. Quando ingrano la marcia e cerco di muovere la vespa, si genera comunque un attrito importante tra gli ingranaggi e comunque deve fare uno sforzo importante per spingere avanti la vespa, questo rapporto. Questo rapporto, cosa succede però? Nel muovere spinge anche assiale, no? sull'ingranaggio per la dentatura. Ah, ok. Quindi fa fare questo movimento anche nello spingere. Volgarmente, se ho capito bene, vediamo se ho capito perché sai che se capisco io capiscono tutti, perché essendo, lo dico brutalmente, il dente è storto e quindi gli fa fare questo movimento che invece il dente dritto non gli fa fare. Quindi tutto quell'attrito lì sul dente dritto non c'è, non c'è. Deve preoccuparsi solo perché man mano che io faccio aumentare la velocità alla vespa, quindi nel rapporto lungo dalla terza alla quarta marcia, la vespa frena tanta aria perché di aerodinamica non ne ha, quindi deve spostare sempre più aria, il peso del conducente comunque incide, c'è sempre più sforzo anche in questo senso, no? Ok. Oltre a quello del rotolamento e tutto quanto. Ok. Quindi appare il rapporto, appare il risultato, è sempre meglio una campana a denti dritti perché tolgo tutto a quella tritoli. È più efficiente. Buono. Adesso vediamoci un attimo i riferimenti che abbiamo. Allora, se io divido i denti dalla campana con i denti del pignone, 68 diviso 6 diviso, 16, mi dà 4,25 come risultato. Ok. E poi, vabbè, proseguiamo. Già che ci siamo, 67 diviso 18, 3,72. 63 diviso 22, 2,86. E 61 diviso 24, 2,54. Quindi, man mano questo risultato cala, più si allunga il rapporto, no? Sì. Non è uno studio. È lampante, no? Perché noi partiamo da un riferimento. Abbiamo detto prima che noi non siamo studiati. Studiati, come si dice. Noi non siamo studiati. Siamo pratici. Però è lampante, no? Che comunque una Vespa 50 ha un rapporto, ha un risultato molto più alto rispetto a una Vespa 125 o una Vespa 90. Adesso che abbiamo questi riferimenti, noi abbiamo a disposizione tutte le dentature a denti dritti, no? Da poter piazzare o nel mezzo, comunque o oltre, rispetto al motore che stiamo andando a fare, no? Vero è che i motori originali, siccome sono motori molto elastici, che girano bassi, con attenzione, entra in gioco il volano, che è massa volanica, con un motore a coppia bassa, mi aiuta a spingere il rapporto finale, ok? Sì. Cosa succede? Che il rapporto, pensato dalla piaggio, è relativamente lungo. È studiato per un motore che gira basso con una massa volanica importante. Se io voglio fare un motore che gira più alto, con coppia alta, potenza in alto, e una cilindrata maggiore, può darsi che uno di questi rapporti vada bene per me, nonostante la cilindrata maggiore. Tutto qui. Allora, rapporti a denti dritti, stesso discorso, ne abbiamo lì. La 2472, che era, diciamo, la campana che una volta era l'ingresso, no? Anzi, scriviamocelo qua. No, prima vediamo il risultato. 72 diviso 24. Mi dà 3 come risultato. Quindi dove si piazza questa campana di denti dritti? Tra la 1867 e la 2263. Certo. Ok. Qui in mezzo. Quindi abbiamo già trovato un risultato che a noi può farci riflettere. Perché se è vero che la 2263 a denti elicoidali dà un risultato più lungo, quindi è un rapporto più lungo rispetto alla 2472 a denti dritti, in più all'inerzia della dentatura elicoidale che mi toglie comunque potenza, capisci che io posso fare un 90, un 102 cc, però potrei avere delle difficoltà a spingere quel rapporto lì. Non ne ho, perché comunque ancora ho tutto sommato un rapporto accettabile. Però cosa entra in gioco se io sono molto al limite con il rapporto lungo? Entra in gioco la ruota posteriore, che comunque è l'ultimo rapporto e incide parecchio. E il peso, il peso del conducente. Certo. Se io sono al limite con un rapporto e alleggerisco anche il volano, perché nella mente delle persone si può instaurare questo concetto che volano leggero, tanti giri, vado forte, però attenzione. Se io sono al limite con il rapporto, quando passo dalla terza alla quarta, con un volano leggero, non ho la massa che mi aiuta a spingerlo, perdo coppia e ho finito. Chiaro. Molto chiaro. Quindi, una volta che abbiamo imparato a fare questo calcolo semplicissimo, poi tutte le altre dentature, denti dritti o liquidali che siano, che adesso ce ne sono un'infinità, le posso piazzare in questi riferimenti, no? e agire un attimino di conseguenza, senza entrare nel discorso dei cambi che ci sono adesso, perché andiamo veramente su un discorso molto complesso. Questo deve rimanere un discorso piuttosto semplice. Adesso c'è il cambio a 5 marce, che magari ha la prima e la quinta lunga, come la prima e la quarta della nostra Vespa 50 Special, però ha un rapporto in più. È molto importante questa cosa. Tutti i cluster con i denti più o meno lunghi. Lì poi dopo ci si può perdere, ecco. Posso montare un rapporto molto più lungo, o non troppo molto più lungo, e accorciare la quarta. Però ecco, intanto abbiamo visto un attimino come si fa una semplice frazione, avere un'idea di dove piazzare il rapporto. Ecco, se è vero che un 102 va bene con una 24 a 72 a denti dritti, col cambio standard, da lì in poi abbiamo un altro riferimento, no? Chiaro, Edo. Intermezzo, ragazzi, Edo deve fare una precisazione, per cui avevamo già messo via tutto, la inseriamo in questo momento. Dimmi, Edo. Mi sono dimenticato di dire che non dobbiamo farci ingannare dalle dentature dei pignoni, perché poi ci sono campane come questa, questa è un Apolini, però anche altre adesso, DRT, eccetera, che cambiano modulo. Questa ha un pignone da 24 denti, però attenzione, 24 su 58, quindi 58 diviso 24, mi dà un risultato di 2,41, quindi è ben più lunga, è ben più lunga come rapporto finale rispetto anche a una 27,69, attenzione, 27,69, che è una campana che generalmente si può montare anche su un 130, no? Se noi facciamo 27,69, 69 diviso 27, mi dà un risultato di 2,55, quindi 2,41, questa campana con pignone da 24 denti si piazza nel mezzo tra una 27,69 e una 29,68, che sono campane, insomma, già abbastanza lunghe. Quindi non facciamoci ingannare perché comunque il modulo dei denti crea rapportature diverse che si piazzano comunque in mezzo ai riferimenti che abbiamo. Ok, Edo, però spiega a un ignorante come me che cos'è il modulo, perché io non ho capito. Diciamo che è la distribuzione dei denti sul diametro, no? Perché se io, vedi che io qua ho una 27,69, no? E cioè? Che abbiamo detto che è più corta rispetto a questa, che è una 24,58, però se sullo stesso diametro che è 44,8, ok, circa, ok, 27 denti, 24 denti. Ah, ok. Quindi sono distribuiti in un modo diverso, perché poi la campana in realtà è molto più piccola, 69,58. Modulo molto diverso. Beh, ragazzi, io l'ho capito. Andiamo avanti con quello che c'era prima. Beh, Edo, dai, oggi non ti sei sporcato le mani, però hai usato i neuroni, che è sempre una cosa molto importante. A parte che li usi sempre ogni volta che ti sporchi le mani. Però, dai, è una cosa diversa, non me l'aspettavo, ma è stata interessante. Ho capito, con questa tabella che hai fatto, alcune cose che per me erano dei dubbi. Abbastanza semplice, siamo rimasti con un discorso proprio basico, quindi... Molto, molto interessante. Che dite, ragazzi? Sì, quindi vale la pena di iscriversi, di commentare, di condividere. Ricordatevi il cuoricino con il mezzo del dollarino qua sotto, che sarebbe sempre cosa gradita. Ma però li vediamo col binocolo. E adesso, invece, non col binocolo, sempre con l'augurio che la ruggine sia solo fuori da voi, e con il saluto finale noi andiamo a vederci un caffè, e non solo a vederlo, ma anche a berlo. Ciao, ragazzi, e alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.